Seconda assemblea provinciale di agire per il Trentino, il movimento territoriale del centro-destra, nato due anni fa per iniziativa di Claudio Cia, presentata la squadra di candidati, illustrato il programma politico in vista dell'appuntamento elettorale di ottobre, indicato come presidente della provincia Maurizio Fugatti. Il neo sottosegretario del Ministero della Salute fa sapere che su una sua eventuale discesa in campo come candidato governatore in Trentino deciderà la Lega e Matteo Salvini.